Vi do una novità importante che riguarda l'estero, precisamente Aung San Suu Kyi, si chiama così, lascia il carcere e questa persona di genere femminile che ha, vi ricordo, 78 anni di età, hanno operata come premio Nobel per la pace, ebbene è stata trasferita agli arresti domiciliari, vi starete chiedendo perché una scelta del genere, per quello del caldo, infatti dove è reclusa la situazione è veramente molto calda, bollente, le temperature sono roventi, si è quindi scelto di buon accordo col ministero dove è reclusa di trasferirla ai domiciliari e quindi toglierla dalla situazione di carcere, di carcere, di carcere, di carcere di reclusione. Bene, iscrivetevi, commentate, ciao!